Amici di Primo Canale, bentrovati in un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì quando ritroveremo l'anticiclone a interessare tutte le nostre regioni, tempo soleggiato poco nuvoloso, qualche improvviso piovasco durante la seconda parte del giorno sulle zone più interne e montuose dell'imperiese e savonese. Ecco di fatti qualche fenomeno che interessano i dilevi montuosi durante il pomeriggio, altrove tempo soleggiato con valori termici anche oltre i 30 gradi, giornata molto calda, savonese anticiclone sub tropicale a tutto motore, una giornata soleggiata sulla costa, venti deboli, mari fino a divenire comunque quasi calmi, non di più, temperature fino a 32-33 gradi o di più sul savonese. Poi tutta la provincia di Genova che vedrà tempo soleggiato a parte qualche improvviso piovasco sulle aree più interne, altrove invece sole. Tiguglio, giornata molto calda ma di piena estate, non mancherà il sole su tutta la zona costiera con venti deboli e poi rapidamente lo spezzino dove il tempo sarà soleggiato grazie all'alta pressione, nubi cumuliformi del pomeriggio sulle aree interne. Tendenza meteo per la giornata di venerdì quando l'alta pressione interesserà ancora l'Italia ma durante la serata dei temporali saranno possibili in alcune aree interne della Liguria. sole sulla costa con gran caldo, massime anche al di sopra di 30 gradi, maggiori dettagli approfondimenti scaricando l'app di Trevi Meteo.